Continuo a tenere banco la questione della pavimentazione del Ponte Vecchio di Bassano. Sono tantissimi i messaggi che arrivano ogni giorno alla nostra redazione. Siete voi telespettatori che ci scrivete come vorreste che diventasse il vostro amato ponte e monumento nazionale. Tra le soluzioni preferite resta il legno, anzi un legno speciale, ci scrive Stefano. Usiamo il larice delle nostre care montagne distrutte da vaia. Mentre per ben due volte un altro telespettatore dice pavimenti in legno. Richieste pensate e ragionate e ringraziandoci della possibilità che Rete Veneta dà alle persone di poter esprimere la loro opinione, c'è chi suggerisce di usare il grass esteticamente simile al legno ma che non necessita di accurata manutenzione come il legno stesso. Molto critico Alberto che scrive come la scelta della pavimentazione non sia solo estetica ma soprattutto funzionale e non precisa solo per i tacchi delle signore. Bisogna stare attenti perché, dice il nostro telespettatore, il rischio sarebbe di fare una scelta di pancia e invita a illustrare alla cittadinanza pro e contro dei materiali possibili per pavimentare il Ponte Vecchio. E intanto procedono i lavori di restauro. Il genio civile ha dato il placet alla inco di Pergine e Val Sugana ad accedere nell'alveo del Brenta da nord, da via Volpato, per costruire la tura necessaria alla sistemazione delle stilate 3 e 4. Al proposito ricordiamo che molti avrebbero espresso il piacere di poter partecipare a una consultazione comunale online, quindi non onerosa per le casse comunali, per esprimere la loro opinione su questa scelta perché il ponte resta comunque un gioiello dei bassanesi.